Come si effettua la sostituzione degli infissi in alluminio? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di abitazioni private con il sistema Bisacchi. Prima di tutto, quando si sostituisce un infisso, bisognerebbe pensare a quello che serve, alle proprie esigenze, a vedere se il materiale che abbiamo scelto è quello giusto e questo può avvenire attraverso una consulenza. Poi bisogna pensare a come sostituirli, perché spesso nel mercato degli infissi cosa fanno? Prendono un nuovo infisso e lo vanno a montare sopra quello vecchio e questa è una cosa da evitare come la peste perché crea veramente tantissimi problemi sia di luce, sia di tenuta nel tempo e anche estetica perché vedi una cosa abbastanza oscena e quando te la vedi in casa ormai è troppo tardi. Spesso vedo dei commenti nei miei video e dico ma se avessi visto prima questo video purtroppo succede. Proprio per questo voglio aiutarti a capire quali sono le scelte migliori da fare. Proprio anche per questo motivo la sostituzione degli infissi, soprattutto quelli di alluminio, è qualcosa che viene fatto molto di rado nel tempo. Se stai sostituendo questo tipo di materiale, magari hai degli infissi anni 70, anni 80, che sono infissi vari che sono ancora funzionanti, ma le devi cambiare perché non hanno nessun potere termico, nessun isolamento. Se ti sei trovato bene con questo tipo di materiale, ti consiglio di rimanere sulla stessa scelta perché è una scelta che ti darà appunto durata nel tempo ma con le prestazioni di un infisso di oggi dal punto di vista termico, dal punto di vista acustico e dal punto di vista anche luminoso perché con l'infisso in un minio è possibile avere profili più sottili e più luce all'interno della casa. Per fare tutte queste scelte ho creato un servizio di consulenza con Sistema Bisacchi per aiutare tutti i potenziali clienti in giro per l'Italia anche quelli che normalmente non potremmo servire perché noi lavoriamo principalmente nelle province di Follicesena, Rimini e Ravenna e se vuoi saper di più su questo servizio di consulenza vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Insieme troveremo la giusta scelta per sostituire i tuoi infissi in alluminio. Ciao e al prossimo video! Ciao!